Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è giovedì 1 dicembre 2022 e ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, sono pronti sulla nostra scrivania i giornali, sono aperti sulle pagine fanesi innanzitutto, poi anche sulle pagine delle altre località, sul resto del Carlino e sul Corriere Adriatico, ma prima di tutto passiamo per le previsioni del tempo e il santo del giorno, oggi vediamo che si festeggia Sant'Eligio, Sant'Eligio fu uno dei principali santi che illustrarono la Francia nel VI secolo, da vescovo riformò il clero, convertì molti pagani, fu un grande taumaturgo, fu molto stimato dal re di quella regione, re Clotario e poi anche dal suo figlio, re Dagoberto, Sant'Eligio, santo del giorno. Veniamo alle previsioni del tempo, vediamo la grafica, quello che i meteorologi ci dicono per quanto riguarda le marche, vediamo che ci saranno nella giornata nubi sparse, alternate a schiarite per l'intera giornata, eventi saranno al mattino e al pomeriggio tesi e proveranno da nord e nord-ovest, il mare è mosso, le temperature oscilleranno tra i 9 e i 10 gradi, il sole sorge alle 7.21 e tramonterà alle 16.31, le giornate si stanno accorciando e lo faranno fino al 21 dicembre prossimo. Ed ora apriamo i giornali sulla pagina del resto del Carlino, sulla pagina di Fano, si parla della piscina, perché ieri si è parlato, anzi l'altro ieri si è parlato nella seduta del Consiglio Comunale, c'è stata una interrogazione da parte dell'opposizione. La piscina c'è, il problema sarà arrivarci, la piscina dovrebbe essere completata, la nuova piscina si parla della struttura che sta sorgendo nei pressi dell'aeroporto di Fano, dovrebbe essere completata entro il 31 dicembre, quindi entro pochi giorni, però il problema, dice l'opposizione, in modo particolare la Lega, sarà arrivarci, sarà arrivarci perché la pista ciclabile che è stata progettata dall'amministrazione comunale ancora deve essere realizzata e ci vorrà del tempo perché lo sia. Ilari, il capogruppo della Lega, dice senza quell'arteria la piscina è una cattedrale nel deserto e manca anche il bando per la gestione dell'impianto. A Ilari ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori in Consiglio Comunale e anche al leghista Luca Serfilippi che chiedeva chiarimenti sulla spesa. Ebbene, Brunori ha detto che il progetto esecutivo della pista ciclabile sarà finanziato con il fondo del PNRR. Sono 915 mila euro, di cui 35 mila saranno messi dal Comune. Sarà pronto a febbraio del 2023, i lavori dovranno essere appaltati entro il giugno del prossimo anno, quindi verosimilmente ci vorranno un anno, due, probabilmente due anni perché l'infrastruttura sia realizzata. La piscina c'è, il problema sarà arrivarci, questo è il titolo sul Corriere. Ieri c'è stata anche una conferenza stampa sulla prossima edizione del Carnevale. Si ricomincia dopo la pausa imposta dalla pandemia, dal Covid, che ha ridotto drasticamente le manifestazioni del Carnevale di Fano, che sappiamo è il più importante della regione e Marche, ma anche il più importante tra i Carnevali italiani. Vediamo che si riprende con la sfilata dei carri allegorici, finalmente torna la grande sfilata dei carri allegorici in Viale Gramsci con il getto, la luminaria e tutta la grandiosità che questa manifestazione sa esprimere. Il Carnevale toglie la sordina, intitola il resto del carlino e Baronciani celebra il getto. Chi è Baronciani? Alessandro Baronciani, molti lo conoscono, è un fumettista pesarese che ha raggiunto la ribalta nazionale. Salutiamo Alessandro che ieri ha presentato il manifesto del Carnevale di Fano, il manifesto d'autore che ritrae, lo vediamo qui in questa fotografia, ritrae il voulon che ha in braccio una bambina. Il manifesto è parzialmente nascosto dalla presidente della carnevalesca Maria Flora Gianmarioli che qui con il suo consiglio ha illustrato le prime indiscrezioni, chiamiamole così, della prossima edizione del Carnevale. E qui vediamo lo stesso Alessandro Baronciani, è lui l'autore di questo manifesto. Dicevo ritrai il voulon, la maschera tipica del Carnevale di Fano, che tiene una bambina in braccio e attorno a lui piovono i dolciumi, piovono gli oggetti del Carnevale, c'è la moretta, c'è anche il simbolo della musica arabita che proprio nel 2023 festeggerà il centenario della sua Costituzione, è nata nel 1923, insomma tempi molto lontani da oggi. Ebbene, leggere quest'articolo ci sono le indiscrezioni, le prime notizie sul Carnevale. Vediamo che torneranno il getto, i dolciumi, ci saranno i veglioni, ci sarà la tombola e anche un tributo per i cento anni della musica arabita. Tornerà anche il Palazzo del Carnevale che quest'anno sarà identificato in Palazzo Bracci Pagani che ospiterà diverse iniziative di carattere anche culturale ma anche di carattere folcloristico. Giriamo la pagina e vediamo come qui c'è una notizia di cronaca. Padre e figlio arrestati, il caso in casa, il bazar dei furti. Ebbene, si sono concluse a bellocchi le indagini dei carabinieri di Osimo. Sono stati recuperati attrezzi da giardinaggio che erano stati rubati, abbigliamento e tante targhe di auto. Sono finiti così in manette padre e figlio. Lui di 50 anni e il figlio di 19 sono moldavi che sono però residenti a Fano. Abitavano a bellocchi. I carabinieri del nucleo operativo di Osimo li hanno intercettati in città l'altra ieri sera perché hanno riconosciuto la targa dell'auto su cui viaggiavano. Le indagini dei militi del comando osimano erano partite settimane fa in seguito al furto di due auto che era avvenuto proprio a Osimo e quindi sono stati appunto individuati questi autori di furti. Addio ai semafori, a Marotta arriva la rotonda tagliafile. Una rotonda che dovrebbe finalmente mettere ordine ad un incrocio importante e anche pericoloso osere dire. Quello tra la statale adriatica e la Val Cesano. Ebbene è un incrocio che al momento è regolato con il semaforo ma tra breve lo sarà con una rotatoria e quindi non ci saranno più le lunghe code di auto che dovranno superare questo nodo importante della viabilità marottese. Le lunghe file ai semafori che reggono all'incrocio tra la statale 16 adriatica e la statale 424 della Val Cesano nel cuore di Marotta tra circa 7-8 mesi saranno solo un ricordo. Infatti nelle prime settimane del 2023, ha annunciato il sindaco Barbieri, decoleranno i lavori da parte dell'ANAS per la realizzazione della rotatoria all'intersezione delle due arterie che avranno una durata di circa 180 giorni. Dopodiché ovviamente ci sarà un po' di disagio per la realizzazione dei lavori ma poi la viabilità scorrerà in maniera più fluente, più scorrevole. Scuola, bus e frena, bimbi sballottati. C'è stata paura all'interno di questo mezzo dove c'erano i bambini e sono arrivate anche due autoambulanze. Una piccola passeggera è stata portata in ospedale però nessuno si è fatto niente. Il fatto è avvenuto a Colli, al Metauro. Sette bambini e una bambina delle elementari sono stati visitati all'interno delle ambulanze e una di loro è stata accompagnata anche al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano. Ma per fortuna tutto si è risolto al meglio, senza nessuna conseguenza. E quindi è stato un piccolo incidente. Per fortuna non ci sono stati feriti né contusi. Giriamo ancora la pagina. Siamo ad Urbino. Ad Urbino si parla del nuovo anno accademico che è stato introdotto con una personalità veramente importante della cultura. Anno accademico sul sipario con Howard Burns. Si è aperto al Teatro Sanzio il 517esimo capitolo dell'Ateneo. Pensate quanta anzianità e quanta cultura ha dispensato l'Università di Urbino. Tantissimi studenti alla lezio magistralis del professore della normale. Si è aperto così ufficialmente ieri mattina al Teatro Sanzio e questo anno accademico, il prossimo anno accademico della Università. Per l'occasione i partecipanti hanno potuto assistere ad una lezio magistralis su Urbino e la nuova architettura tenuta appunto da Howard Burns, professore merito, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Sul palco è intervenuta anche l'onorevole Augusta Anita Laura Montaruli che è sottosegretaria al MUR, ovvero al Ministero dell'Università e della Ricerca. Urbino, la sua abitabilità, la sua estensione edilizia, la sua conformazione urbanistica che è frutto di una intuizione illuminata del Rinascimento. Laurana ha fatto il Palazzo Ducale e via via poi la città si è ingrandita ma il Palazzo Ducale ha determinato una presenza particolare che ha appunto dato delle regole per l'Università, per la città di Urbino. La palestra si guardi sempre a valle. Ebbene il sindaco Gambini, il sindaco di Urbino, ieri ha mantenuto la sua posizione sulla struttura da realizzare alla piantata. Si riapre così la questione, si riapre la questione a sorpresa e si è riaperta durante il Consiglio Comunale di martedì scorso. Qui il sindaco ha detto di non avere ancora accantonato l'ipotesi di realizzare la palestra a valle dei campetti sportivi. La possibilità sembrava prima svanita, ora invece viene recuperata dopo la notizia di una perizia della provincia in cui si parlava di costi troppo esosi per rendere edificabile l'area geologicamente complessa e che aveva riaperto la discussione con la costruzione vicino al liceo artistico. Invece si ritorna appunto alla primitiva posizione. Macerata, prime assicurazioni sull'ex ospedale. La consigliera regionale, Michela Vitri, dice che la nota dolente è la mancata chiarezza sulla ristrutturazione dell'edificio. Continueremo a vigilare. Il tema della sanità continua a tenere banco in Consiglio regionale. Nell'ultima seduta si sarebbe dovuta discutere delle interpellanze che riguardavano l'ospes di Fano. È una rete di strutture per le cure palliative e anche pediatriche. In realtà l'assenza dell'assessore competente non ha reso possibile appunto una risposta alle interpellanze che avevano proposto sia Luca Serfilippi della Lega che Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle. Vediamo anche qualche notizia pesarese. Giriamo il giornale e vediamo come si parli ancora della bomba, della bomba che sarà disinnescata domenica prossima. Bomba, rientro a casa solo a emergenza finita. Il Comune tassativo sulle regole da seguire. I fragili a Galantara, i positivi a Macerata Feltria, cani, gatti e altri animali anche al Palasport. Insomma, si è diviso pani e pesci. Un intero quartiere comunque verrà mobilitato il prossimo 4 dicembre a case bruciate. Ebbene, il quartiere non godrà certo di una domenica rilassante. Entro le 8 del mattino, tutti i residenti della zona, sono circa 900, dovranno essere fuori casa e non potranno farvi ritorno se non dopo le 15. Gli artificieri nel frattempo dovranno fare brillare un ordigno ritrovato nel cartiere in strada di Montefeltro. Una bomba di circa 1000 libre armata di spolette rimasta sepolta lì dalla Seconda Guerra Mondiale. L'evacuazione che sarà effettuata dal Comune avrà inizio alle 6 del mattino e dovrà essere completata entro un paio d'ore. Per chi non ha un posto dove andare è stata messa a disposizione la Vitifrigo Arena e qui saranno a disposizione anche i bagni, la macchinetta per il caffè, il distributore dell'acqua, ma chi vuole consumare il pasto dovrà portarselo da casa. Insomma, un po' di servizi ci sono, ma ovviamente non tutti. Colletta alimentare, donate 215 tonnellate di cibo. Il presidente della Fondazione, ammirevole l'entusiasmo dei volontari, anche via social, tante attestazioni di riconoscenza e sono 215 le tonnellate di cibo che sono state raccolte nelle Marche durante la giornata nazionale della colletta alimentare che si è celebrata il 26 novembre scorso in 350 supermercati che sono stati coinvolti. E senza le restrizioni determinate dal Covid degli ultimi due anni tantissime persone hanno scelto di rimboccarsi le maniche per operare un grande gesto di solidarietà. Sia i volontari che sono prestati alla raccolta appunto dei generi alimentari sia coloro che dando a fare la spesa hanno offerto una bottiglia d'olio, una bottiglia di passati, un pacco di pasta, un pacco di zucchero appunto per sostenere le famiglie più deboli. Ed ora diamo un'occhiata invece al Corriere Adriatico. L'apertura è dedicata sulla pagina di Fano ad una conferenza che si è svolta nella mattinata di ieri in Comune. Si parlava di sport e di solidarietà. Lo sport a Fano è un diritto sociale, alvia i voucher per i meno abbienti. Gli assessori Tinti e Brunori sono intervenuti sul contributo di 200 euro offerto dall'ambito sociale numero 6 per ogni ragazzo delle società sportive. Occorre però ovviamente disporre di un limite di reddito. Vediamo di che cosa si tratta. Diamo una lettura alla prima parte di questo articolo firmato da Andrea Amaduzzi. La povertà che monta non è fatta solo di affitti, bollette e scontrini del supermercato non più sostenibili, ma anche di un diritto allo sport negato. È vero, quando uno è povero non riesce nemmeno a fare lo sport. In questo caso c'è un sostegno per chi può continuare a farlo. Quello che i minori di famiglie e prigionieri di uno status socio-economico precario non possono esercitare perché anche fare attività sportiva costa. 250 di questi under 18 residenti nei nuovi comuni dell'ambito territoriale e sociale e appartenenti a nuclei con ISE inferiore a 6.000 euro o che percepiscono il reddito di cittadinanza vedranno alleggerito il problema grazie al progetto Benessere Sportivo che attinge a 50.000 euro del fondo povertà il quale consentirà di erogare voucher di 200 euro per ciascun ammesso spendibili presso le società sportive del territorio per acquistare un paio di scarpe per acquistare una tuta per acquistare un giubbotto appunto e continuare a praticare l'attività sportiva che si è scelta. Insomma la povertà non deve interrompere anche l'esercizio fisico e questo è un buon sussidio una buona idea per ritornare alla normalità e poi vediamo invece una bella iniziativa assunta da alcuni studenti un braccialetto per trovare l'uscita di sicurezza tra poco si ricorderà la strage della lanterna azzurra che ha causato vittime molto molto giovani dalla strage alla lanterna azzurra l'idea di un dispositivo realizzato dagli studenti delle ITS sono studenti che hanno realizzato un braccialetto un braccialetto che con dei dispositivi veramente molto molto sofisticati riesce a cosa fare? riesce a illuminarsi durante una fase d'allarme e a indicare a colui che lo indossa la via dell'uscita più sicura e più cedere vediamo un attimo come viene detto questo meccanismo come viene presentato questo meccanismo si tratta di sevent e lacrasi l'unione delle parole sicurezza ed eventi in inglese security and events consiste in un dispositivo indossabile un braccialetto che attraverso un sistema radiofrequenza illuminazione a led permette di individuare l'uscita più vicina in caso di emergenza quindi non più confusione non più spinte cadute e poi incidenti come quello che è avvenuto la lanterna azzurra ma un qualcosa di più sicuro di più ordinato ebbene una bella iniziativa e poi anche qui si parla di carnevale il carnevale torna ai tre corsi mascherati a febbraio quattro nuovi grandi carri allegorici e poi ci saranno innovazioni tecnologiche tanti gli eventi e ci sono le tre uscite dei corsi mascherati che saranno il 5 il 12 e il 19 febbraio prossimo ma non saranno solo queste le iniziative del prossimo carnevale per tutto il mese di febbraio è stato annunciato in questa conferenza stampa ci saranno eventi manifestazioni per bambini adulti anziani insomma tutti per avere un momento di allegria e in consiglio comunale si è parlato anche dell'emergenza abitativa grazie ad una interrogazione di lucia tarsi dei fratelli di fratelli d'italia ha risposto l'assessore al welfare di comunità dimitri tinti all'oggi è di nuovo e di nuovo emergenza dieci sfratti in due settimane ebbene gli sfratti erano stati bloccati nel periodo più intenso più oscuro della pandemia ora invece sono ripresi sono ripresi nel 2022 e stanno crescendo stanno montando insomma il problema a casa è un problema sempre persistente e l'assessore stesso ha detto che difficilmente il comune con tutta la sua buona volontà con tutti i mezzi che è riuscito a mettere a disposizione riuscirà a risolvere integralmente il problema però insomma iniziative di solidarietà ci sono e vengono attuate ancora sulla pagina del Corriere Adriatico vediamo la infrastruttura di Marotta quella della rotatoria all'incrocio tra la strada che porta a Pergola quella della Valcesano e la statale Adriatica via il semafero a Marotta la rotatoria toglie le code a breve al via i lavori all'incrocio appunto tra l'Adriatica e la Pergolese Barbieri abbiamo ottenuto un grande risultato è veramente così è vediamo anche la pagina di Senigallia dove per incentivare una movimentazione e anche dare un aiuto al commercio l'amministrazione comunale ha decretato che ci saranno due ore di sosta gratis in centro storico così in Natale lancia lo shopping i parcheggi con lo sconto al via l'8 dicembre prossimo domani alle 18 si accendono le luminarie a Senigallia sono due ore di sosta gratuita in centro storico dall'8 dicembre alle 18 si accendono le luminarie il pacchetto relativo alle agevolazioni natalizie nei parcheggi è stato affrontato ieri in giunta ma verrà approvato nella prossima seduta dell'esecutivo insomma si è iniziata la discussione per quanto riguarda Pesalo si parla del dissesto idrogeologico fiumi devastati 158 opere previste per cercare di porre ordine appunto al territorio il consorzio di bonifica delle marche ha presentato il piano post alluvione dopo le opere di somma urgenza progetti per quasi 5 milioni di euro e questa è la cifra che verrà investita per opere di contenimento appunto nel territorio a casa Micciola un quarto delle precipitazioni registrate nel Pesarese pensate la veramente ha causato un disastro ma là è un'altra questione è un'altra questione di abusivismo tanto materiale scaricato l'economia ora è a rischio i timori dei sindaci di Frontone e Cantiano chiesto un piano organico proprio per intervenire in maniera razionale nel territorio e qui si parla poi del Bomba Day il giorno della bomba un piano anti sciacalli addirittura perché le case devono essere abbandonate e nessuno deve entrare quindi ci sarà anche un sistema di sicurezza per tutelare le proprietà dei residenti nessuno entrerà nella zona rossa che verrà dunque presidiata per la rimozione domenica 900 persone via da case bruciate per 7 ore ma ci saranno i controlli e l'assessore Belloni ha dichiarato ci sarà un grande dispiegamento di forze i disabili sono accolti a Galantara appunto nella struttura ex casa di riposo il dottor De Santi appende il camice la rete d'assistenza da riordinare è il medico in prima linea si tratta del dottor Danilo De Santi contro il covid va in pensione era appunto uno dei quelli uno dei dottori di medici che ha combattuto di più contro la pandemia ed ora lancia un messaggio alla regione in questa intervista Mercatini e Maxi Candela così i quartieri faranno festa ebbene a Pesaro entrano nel vivo le manifestazioni natalizie e ci sarà un grande cero una grande candela che girerà in tutti i quartieri della città sono iniziative diffuse in tutto il comune con un testimone itinerante altro 4,5 metri insomma una bel cero che verrà appunto passato di quartiere in quartiere rinuncia alle luminarie ma ci sarà un simbolo che riassume pace e attenzione ai consumi una candela una volta c'erano solo le candele non c'era l'energia elettrica ed ora si ritorna un po' all'antico ma tutto questo in un'atmosfera ancora più suggestiva perché poi la candela è più suggestiva di una lampada elettrica giriamo ancora una pagina e vediamo come il corriere adriatico parli di una truffa finta busta paga vera truffa alla nonna affitto non pagato e tentata estorsione a processo va un pesarese di 36 anni e una coetanea rumena un incubo per la pedrone di casa di 84 anni una finta busta paga a garanzia per poter entrare nell'affitto dell'appartamento è questo che ha tentato questa coppia che ora deve risponderne in tribunale era l'ultima notizia a questo punto chiudiamo il giornale io vi do appuntamento per la rassegna stampa di domani intanto mi invito a seguire il TG di Fano TV occhio alla notizia questa sera alle ore 20 e 30 questo è tutto io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto a risentirci